perché vogliono degli ospiti molto forti, tipo Ligabue, tipo Vasco Rossi, ma non trattati, loro devono avere paura quando vengono lì, perché c'è un pubblico già guerrito che gli fa delle domande e poi devono affrontare bene, capisci? Non è che li voglio trattare male, se no non vengono niente, però voglio andare a fondo della situazione, è possibile che Ligabue, non so da quanti dischi, ha sempre lo stesso giro d'accordi, ha sempre lo stesso timbro di voce, io a malapena, a parte i pezzi famosi, riesco a distinguere un pezzo dall'altro, allora mio caro Ligia, a livello musicale, a livello analitico, a livello didattico, spiegami un po' quello che conosci, perché mi sembra che a dimostrazione del fatto della tua conoscenza musicale sia molto elementare, o lo fai perché il pubblico richiede quello, o lo fai perché più di tanto non puoi fare, adesso questo però lo devi spiegare, hai capito? Lo devi spiegare ai tuoi fans, capito?